questo nome di questo nome di questo nuovo video siamo in questa challenge che sarebbe provano a ridere challenge e raga qui siamo sul mio lettino che è abbastanza ne raga oggi pari una trino ma non ci sono un challenge con e e e è proprio no 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 Eccoci qui sul telefono eh raga Sì non potete vedere se rido Però raga ve lo giuro Se rido ve lo prometto che lo prenderò E che io ho la risata forte Ma cosa dico di questa? Comunque l'ha sentito Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Look, look I see it I see it Bodhi is sleeping while standing after skiing Oh yeah He is astrowned asleep What's that? I know, I'm about to put my gloves in my coat And my hands are too hot too I couldn't make it He's totally asleep No, we're just down the back Oh my goodness Look at him Look at him Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness You guys He's asleep Hey, do you want to come up with mom again? What? 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 How are you reading? Are you reading the show? Go get my baby in the back house Go get my baby in the back house Go get my baby in the back house I don't know who your mother is. In fact, I don't know who you are, but you can tell me. In Siri settings, tap on my info and then choose yourself from your contacts. Oh, mommy. Peace. Interesting. No, 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 no. Let's open the lemon. Here. no no ora vi prego basso c'è guardate qui in telecamera in diretta vedremo è così il bicchiere no raga non ce la faccio più prego raga no si ora dopo faccio un vlog no dopo domani faccio un vlog che dico che mi piace limone ma non qua a caso cosi no raga non è se io io sono il figlio non c'è ora questo ve lo bevelo per youtube dai e dopo faccio il tutto senza fare niente allora mettiamo dislike se faccio oppure una cosa che muovo tutto e mi faccio non andiamo a guardare una fotonita un po' di niente e lo metriamo direttamente a senti non le gustò come le cantate? no? perdon mi amor i'm dusting her ceiling fan this is what's going on down below ok they're spinning around because i'm cleaning the ceiling fan like how funny is that no no dai non voglio l'asta non voglio non voglio eccoci qua in videocamera eccoci qui ce l'ho vomitato un'ora anche se non ho tagliato un cazzo perchè se no ditemi se volete una bottle flip ciao lì ecco poi raga non vi posso far vedere la marca però vi posso vedere e questo non è succo di limone con ma che si mettono c'è no raga faccio un vlog perchè mettono su cosa di limone? quanti vlog da fare c'ho? una challenge se me la consigliate? tutto tutto poi io faccio video pure per passione c'è non per soldi io non voglio soldi però se mi vuole mandare su va bene però anche se non mi ispito qua c'è uno e raga e raga passiamo qui perchè il video deve trovare almeno poco e raga ora possiamo passare alla 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 facciamo uno screenshot dai anche se non lo so fare nel video posso trovare due video ma cosa ma cosa ma cosa fammi vedere ma che merda va bene dai andiamo subito il tempo che è una piccina figlia ehi ehi raga ma raga vi siete voi e noi dobbiamo berci quello la che mi sto sbagliato di perro allora raga vi vedo eh parli cop Doy? vedo 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 ar vedo 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 no 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 oh 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 ma voi non vedete che è tutto bagnato se lo dovete fare questa e volete fare questo tipo di challenge e poi verrà il video di più vediamo l'ultimo video e ridiamo ci dobbiamo bere quasi tutti i limoni l'ultimo video perché davvero non posso registrare per 15 minuti porca dica puttana no va bene va bene condividete con tutti quanti ci vediamo al prossimo video bene ragazzi però aspetta raga voglio scordare una cosa sì carmine voglio scordare una cosa questo è tutto del video volevi fregare youtube volevi fregare youtube carmine no raga non ce la faccio vi prego dai me lo bevo tutto in questi 13 minuti no raga ve lo tiro non ce la faccio io voglio bere così non fammi vivere penso che questo sai è l'ultimo vicino che toccata nel mio video morirò dopo questo lo capresso abbiamo un minuto raga ma ha 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 e la ragazza me ha scritto il me ha la pagazione ora poi c'è un po' mi domani la mia l'amore 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 Grazie.